Pachino, ancora polemiche roventi sui mancati ricavi dalla raccolta differenziata del Comune. Se accettassimo di farci trascinare le polemiche, in quelle polemiche pesanti che tanti danni hanno provocato nel passato alla nostra Pachino, potremmo far rilevare agli amici di Rinascita che ci tengono a sottolineare che non sono nati ieri, che tutti noi pachinesi siamo consapevoli che loro ci sono stati sempre e potremmo allora chiederci, visto che c'erano, come mai non si sono accorti delle centinaia di migliaia di euro che il Comune ha perso per svariati anni, non ricavando nulla dai materiali della differenziata. Ma a noi interessa soprattutto quello che ci compete di fare. Abbiamo visto come si sia clamorosamente sbagliato nel passato e abbiamo quindi messo in atto i provvedimenti per rimediare nel futuro. Quanto ai numeri del PEF, lo ribadiamo ancora una volta, si tratta di dati tecnici predisposti dagli uffici comunali e che hanno avuto il parere positivo dei revisori dei conti e la validazione della SRR Ato Siracusa Provincia, ente territoriale competente, proprio come da deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, rete e ambiente, devono infatti essere considerati e computati nel PEF per il 2022 i ricavi del periodo 2020 che ammontano a euro zero e per il 2023 e seguenti i ricavi del 2021 che ammontano purtroppo anch'essi ad euro zero. Si fa presente comunque che il PEF, al pari di qualsiasi bilancio plurionnale, è aggiornato annualmente secondo le disposizioni normative e quelle a rera. Tutto questo è stato peraltro già illustrato, con dovizia di particolare nel corso di alcune riunioni con la presenza anche dei consiglieri comunali di rinascita. Se ci riuscite, provate invece a smontare l'incredibile lunghissimo silenzio sui mancati ricavi della differenziata senza ricorrere all'esperimento diversivo, perché di questo abbiamo scritto nella nostra nota sul futuro, continueremo a confrontarci sempre sui fatti. Dichiarano la sindaca Carmela Petralito, l'assessore all'ecologia Giuseppe Andrea Campo e l'assessore ai tributi Nenni Nicastro.